Cos'è per me il ciclismo? Una sfida senza fine. Ciao, sono Fabrizio Pederzoli, ideatore del Metodo PIT Cycling Program. Da 20 anni mi occupo professionalmente di ciclismo. La mia grande passione? Correre in bicicletta. In estate è facile, divertente e piacevole allenarsi all'aperto. Bel tempo, strade libere e compagni di viaggio. I problemi purtroppo iniziano nella stagione invernale. Il Metodo PIT Cycling Program nasce per superare queste difficoltà. È un programma di allenamento completo per il ciclismo ed è composto da 5 mesocicli. Forza, devi sentire tutti i muscoli che tirano! Potenziamento, trazione elastica. Questo per noi è il potenziamento. Agilità. Falle girare quelle gambe. Capacità anaerobiche. Non mollare. Ritmi gara. Ci sei? E andiamo! 40 video allenamenti nei quali ci confronteremo insieme. Che cosa ti serve? La tua spin bike o bici da corsa? La video lezione? Il cardio? Il sensore di cadenza? E tanta voglia di fare fatica? PIT Cycling Program. Non smettere mai di allenarti. Perchè? Perchè? Perchè?